Buonasera a tutti, oggi parliamo di edilizia scolastica, è un tema che dovevamo trattare in passato, non avevo parlato tante volte con Sebastiano Maggio, presidente dell'Age, finalmente siamo tutti qua, devo dire che sono molto contento perché gli ospiti di oggi sono veramente qualificati e importanti. Io ve li presento immediatamente e poi do la parola a Tanino Maggio per introdurre l'argomento. Allora dalla mia destra abbiamo Mario Veca che è dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Ficarazzi, poi abbiamo il piacere di avere il provveditore agli studi ed è anche vice direttore generale della USR Sicilia, poi l'architetto Federico Passaro che è responsabile dell'USR Sicilia per quanto riguarda l'edilizia scolastica, poi Peppino Russo, l'avvocato Peppino Russo, presidente del Fisme e come dicevo Tanino Maggio che è presidente dell'Age Sicilia. Allora Tanino, è un argomento che dovevamo trattare, non so se la mezz'ora a disposizione basterà per esaurire tutto l'argomento però abbiamo detto che ci possiamo rivedere altre volte per continuare su questo tema che ritengo molto importante perché la sicurezza è secondo me la cosa principale che deve essere attenzionata perché i ragazzini, i docenti e tutto il personale della scuola debbano essere messi nelle condizioni di stare negli edifici in maniera tranquilla, sicura e pacifica. Tanino. Intanto grazie Filippo per l'ospitalità e per la tua attenzione che come sempre dimostri grande attenzione al mondo della scuola. Prima di cominciare desidero ringraziare il nostro provveditore degli studi di Palermo, il dottor Marcanello per la sua presenza che per noi è molto importante oggi qui, la presenza del preside Mario Veca e il dottore Passaro dell'ufficio di edilizia scolastica, dell'ufficio scolastico regionale, l'amico Peppino Russo, presidente provinciale della FISM. Grazie a tutti voi per aver accettato l'invito ad essere qui oggi. Perché ci siamo riuniti? Per un motivo molto semplice, io sono genitore e nonno di tre bellissime bambine. Queste bambine vanno a scuola e io, credetemi, in questi giorni, specialmente in questi ultimi giorni, ho avuto la palpitazione perché dico ma questi bambini che sono entrati tranquillamente a scuola la mattina usciranno nella stessa identica situazione o c'è pericolo che durante le lezioni casca qualche cosa, tetto, controsoffitto e questi bambini avranno grosse conseguenze. Cerchiamo di non essere catastrofi, dobbiamo essere positivi. No, però siccome la scuola che frequentano è il Trinacria e lì in passato è successo qualche problema del genere, ecco perché io mi preoccupo. Io in qualità di genitore e nonno dico, io debbo avere la sicurezza matematica che questi bambini debbano andare in un posto sicuro, pulito, ordinato. Una volta il Preside e il Proveditore Anello disse perché non pensare anche ad una scuola bella? Perché una scuola non deve essere bella? Noi parleremo di questo argomento, facciamoli parlare perché sono loro i diretti interessati, noi possiamo solo ascoltare. Grande Proveditore, noi chiamavamo sempre Proveditore, però lui in effetti è pure, oltre che Proveditore, è il vecchio titolo che veniva dato ai Proveditori e ora Vice Direttore Generale dell'USR Sicilia, quindi dobbiamo dire che ha un ruolo veramente importante, ci può dire qualche cosa sulla situazione generale, chiaramente se dobbiamo chiedere in particolare c'è l'architetto, la chiediamo a lui, in generale qual è lo stato di salute delle scuole, perché le notizie che arrivano fanno preoccupare, però noi abbiamo il compito di dare delle informazioni certe in modo da tranquillizzare anche l'opinione pubblica. Ecco, innanzitutto buonasera a tutti e ringrazio per l'invito. Allora è sempre bene che si ponga all'attenzione dell'opinione pubblica, si pongano temi come questi perché sono temi fondamentali. Come diceva giustamente lei Pocanzi, evitiamo però allarmismi ingiustificati e generalizzati. Capisco che il periodo è stato particolare, abbiamo avuto purtroppo degli eventi in Sicilia e non solo, che hanno toccato la sensibilità di tutti e alle vittime va, ovviamente ribadiamo ancora una volta tutta la nostra vicinanza e solidarietà. Tuttavia posso assicurare che la situazione delle scuole è alla costante attenzione di tutti gli organi preposti, dalle prefetture, ai sindaci, all'ufficio scolastico regionale. In tutta onestà bisogna dire che noi comunque scontiamo dei ritardi e questi ritardi stiamo cercando di recuperarli in ogni modo. Finalmente c'è un investimento molto importante da parte dell'assessorato regionale. Abbiamo finalmente una mappatura certa di tutti i rischi. Ringrazio l'architetto Passaro che ha fatto parte di questo tavolo tecnico insieme alla regione. Io ho qua tutta una serie di dati che ci consente di monitorare capillarmente la situazione scuola per scuola sotto ogni profilo di rischio. Chiaramente non dobbiamo essere neanche, come dire, troppo ottimisti e superficiali. Mi sento di poter escludere che ci siano dei rischi reali per coloro, per ragazzi che vanno nelle scuole. Tuttavia c'è un grosso, grosso lavoro da fare di adeguamento delle strutture e c'è uno stanziamento, credo pari a 270 milioni di euro per il triennio 2018-2020 da parte dell'assessorato regionale. Poi chiederemo all'archietto come si dovrà spendere, quali saranno le modalità per accedere a questi fondi perché molte volte i fondi vengono stanziati però non si riesce a spendere. Dobbiamo capire se sono state create delle corsie preferenziali, dei modi per... Io, siccome sono dell'idea che molte volte è molto meglio dare direttamente ai dirigenti scolastici le somme, come ho fatto in passato, però non so se si può attuare per una somma minima oppure se ci sono somme tale per cui occorrono delle gare ufficiali e quindi non è possibile. In realtà i dirigenti scolastici credo che diventino RUP, cioè responsabili unici del progetto. Questo costituisce talvolta un elemento di criticità, ma non mi sento di condannare tra i dirigenti scolastici se si trovano gravati di responsabilità talvolta troppo grandi. Ripeto, ogni volta che si mette in moto una macchina complessa è chiaro che si incontrano delle difficoltà e degli ostacoli. Però la macchina funziona. Siccome abbiamo qui Mario Vega che è dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Ficarazzi, quindi possiamo dire che lui lavora in frontiera, quindi vive giorno per giorno quelle che sono le problematiche. Non gli chiedo se la sua scuola è a norma, però devo dire che molte scuole che ho visitato in quest'ultimo periodo sono scuole bellissime. Ho visto la Bonfiglio, ho visto la Scelsa, sono scuole bellissime, pure il Basile. Dico veramente sono rimasto meravigliato dell'efficienza di alcune scuole. Certo, ce ne saranno altre che hanno bisogno di interventi, però in linea generale facciamo parlare a Mario Vega che dovrebbe rappresentare in sostanza quelle che sono le esigenze dei dirigenti scolastici in questo momento. Lui rappresenta in questo momento i dirigenti scolastici in materia di edilizia scolastica. Cioè quali sono i problemi che debbano affrontare e poi se è possibile appunto un confronto sia col tecnico designato e anche col proprietario che è disponibilissimo. Non solo in questa occasione, devo dire in generale lo è per tutte le problematiche anche fuori da questa sede. Non so, però è opportuno dare una visibilità anche a questi incontri che non si svolgono in camere chiuse, dove la gente non sa niente, dove immagina il tutto e il contrario di tutto. Allora, innanzitutto sento di dire che i miei colleghi nelle loro sedi di servizio, anche quando hanno delle situazioni scolastiche legate all'edilizia, non proprio completamente in linea con quelli che sono i dettami anche della normativa, fanno di tutto comunque per rendere gli ambienti di apprendimento accoglienti e soprattutto motivanti anche per una didattica che sia adeguata ai bisogni di apprendimento degli alunni. con tante microattività e macroattività che durante l'anno vengono svolte per cercare di rendere questi ambienti adeguati alle attività, ai laboratori, alla didattica ordinaria. Quindi in questo senso c'è anche un'attività di raccordo che i miei colleghi, i dirigenti scolastici, fanno tenuto conto della situazione anche strutturale degli edifici scolastici. Anche in particolare, se vogliamo... È vero che una cosa che temete di più è la responsabilità che voi avete in materia di sicurezza scolastica. Il decreto legislativo 81 del 2008 fa ricadere ai dirigenti scolastici questa responsabilità perché chiaramente la sicurezza nei luoghi di lavoro è un elemento fondamentale dell'azione del dirigente all'interno delle scuole perché deve contemperare l'esigenza di funzionamento del servizio scolastico con quella della sicurezza. Non è sempre facile, non è sempre, diciamo, questo aspetto portato avanti al massimo delle possibilità che noi abbiamo. Cerchiamo di farlo nel migliore dei modi, ci assumiamo la responsabilità, lo facciamo anche di buon grado perché con senso di responsabilità sappiamo che il nostro è un servizio essenziale e quindi deve essere svolto... Come avete appunto questa proposta di spendere direttamente a voi determinate somme? Parlo come dirigente che ha fatto questa esperienza in qualità di responsabile unico del procedimento. Perché voi si stanno sedendo in piccoli sindaci? Ha dato un'autonomia? Diciamo, forse è un po' esagerato. Però diciamo che io appunto dicevo, ho fatto questa esperienza di responsabile unico del procedimento perché in uno dei plessi di pertinenza appunto del mio istituto è stato fatto un progetto di fotovoltaico. All'epoca credo il ministro Profumo fece questa assegnazione diretta alle scuole, ai dirigenti scolastici e alle somme su progettazione fatta dall'ente locale di riferimento. Ecco, quindi io ho gestito un progetto in qualità di responsabile unico del procedimento con tutto quello che... Questo progetto aveva un determinato importo, però io dico, ci possono essere... Sì, di centinaia di migliaia di euro. Io mi riferisco anche a progetti di minore importo che voi potreste gestire. Certamente, così come è stato fatto, c'è un precedente. C'è un precedente, però voglio capire se è stato fatto un decreto per l'assegnazione di questi fondi, è previsto, perché siamo sempre là, noi eroghiamo i fondi, però non mettiamo le persone nelle condizioni di poterli spendere. Dico, c'è qualche cosa, un'interlocuzione con l'assessore in tal senso, o no? Architetto. Vorrei, prima di rispondere a questa domanda, fare una premessa. Prego. Perché credo che si sta creando un po' una confusione sull'erogazione di questi finanziamenti. No, ritorniamo a quello che ha detto il proprietorio. Delle somme da spendere. Chiariamo... Volevo chiarire questo... Come li possiamo spendere, se si possono spendere. Questo equivoco. In questo momento c'è parecchio flusso di denaro che sta arrivando alle scuole. E sta arrivando in maniera, a mio giudizio, ordinato, rispetto al passato. Che significa? E mi spiego meglio. Poc'anzi il preside Vega, il dirigente scolastico Vega, faceva riferimento al suo titolo di RUP, responsabile uno del procedimento, e con tutto quello che ha comportato. Perché capisco bene che il RUP ha, individuato dal punto di vista normativo, individua soltanto un ingegnere o un architetto a rivestire tale funzione. Trovandosi un laureato in lettere a svolgere attività che sono di competenza specifica di un tecnico, mi rendo conto che avrà avuto serie e ha dovuto faticare per poter entrare nel merito della materia. Ma questo per quanto riguarda la gestione di somme che erano esclusivamente volte alla manutenzione straordinaria con un capitolo specifico riguardo al risparmio energetico. E questi, parliamo di finanziamenti che andavano fino a 350 mila euro per le scuole di primo grado e fino a 750 mila euro per le scuole secondarie di secondo grado. Quello che lei diceva invece è riguardo la piccola manutenzione e anche lì c'è da fare un distinguo. C'è l'operazione Scuole Belle che è partito come ammortizzatore sociale per poter dare la possibilità a circa 350 persone di rimanere a lavorare nell'ambito della scuola e quindi avere garantito un minimo di stipendio. Ma quella è un'operazione che aveva come scopo principale il decoro dell'edificio, cioè di andare a migliorare il biglietto da visita dell'edificio scolastico in questione. E lì parliamo di piccole somme, cioè sono somme che erano dedicate soltanto alla tinteggiatura, alla verniciatura delle caratteristiche. Diciamo spese di economato in sostanza. Diciamo spese che sostanzialmente mettevano in condizione un dirigente scolastico nel momento in cui facevano il loro piano d'offerta formativa di mostrare che ci sono ancora, sono state spese. Per quanto riguarda questo finanziamento di cui parlava il provveditore, questo regionale del 270... Ora arrivo, infatti sto dicendo che c'è vari flussi di denaro. Per un ultimo, queste somme che sono state individuate dalla regione Sicilia sono individuate per la manutenzione straordinaria e per la salvaguardia dell'aspetto... dell'aspetto sismico, della vulnerabilità sismica. Mi spiego meglio. Che cosa ha fatto opportunamente... Il idrogeologico... Sì, cosa ha fatto opportunamente la regione Sicilia. E qua è la chiave di volta di tutta la faccenda. Prima di spendere somme che possono erroramente essere spese nell'edificio, perché i casi in passato lo denunciano, lo dimostrano, è successo che con le operazioni del RUP, le operazioni delle POIN, sono stati investiti in alcuni istituti scolastici della Sicilia, somme fino a 350 mila euro, però poi è successo pure che finito l'investimento degli infissi nuovi, dei pannelli solari... Si sono presentati problemi di sicurezza e di stabilità. Si sono presentati problemi statici di stabilità e quindi lo stesso comune che ha fatto il progetto per poter fare gli infissi nuovi, i pannelli solari nuovi, lo stesso comune ha bloccato l'edificio perché? Perché l'edificio non era sicuro. Allora per evitare questo... Queste somme debbano andare ai comuni allora, capisco. Quindi saranno i comuni poi a fare i progetti... Però che cosa sta facendo in questo momento la regione di Sicilia? Sta facendo un'operazione inversa. Prima di erogare somme che sono dedicate alla manutenzione straordinaria e quindi a una migliore gestione dell'edificio scolastico, io vado a verificare la vulnerabilità statica. E quindi i comuni debbano individuare dei geologi... No, ci sono delle somme dedicate alla regione Sicilia per poter fare anche a società di servizi esterni, adesso questo si deve capire meglio, per poter fare proprio delle indagini diagnostiche affinché possa essere beneficiario di somme per investire come può. Io sono sicuro che il proprietore, in questo caso Marco Anelli, interverrà direttamente per sollecitare, secondo me, sulla modalità di spesa di queste somme, perché è tutta là. Io credo che ci sia già estrema sensibilità, c'è una piattaforma... Però più siamo meglio è in questo caso, perché è un problema di tutti, perché altrimenti è il ragionamento che facevamo prima, non possiamo ormai, siamo nelle non condizioni di non lasciare decidere solo alcune. La politica ha bisogno di sostegno da parte della società civile e questo ci deve essere sempre, sotto le varie forme, sia come dirigenti scolastici, come proprietore, come presidenti di associazione e anche come, in questo caso, come stampa e comunicazione. Io volevo dare, se mi consente, qualche dato, il fatto che gli edifici... Volevo fare dire qualcosa all'avvocato Russo e poi completiamo, che è già invitato per un'altra trasmissione. Il microfono lo dobbiamo dare, però. Capisco che... Conoro della presenza del proprietore, del vice direttore generale dell'USR Sicilia e anche dei dirigenti ai vari livelli del Ministero della Pubblica Istruzione. E ringrazio, logicamente, il mio amico Danino Maggio per questa sollecitazione che ha fatto nei miei confronti perché fossi presenti a questo incontro. Ma io ribadisco un aspetto che è importante. Intanto siamo dentro un sistema scolastico più ampio, perché io rappresento le scuole paritarie, e proprio perché il sistema scolastico, con la legge del 2000, dal numero 62 del 2000, ha istituito il sistema nazionale dell'istruzione. E quindi tutti siamo un po' coinvolti nel sistema, nel bene e nel male. Logicamente le esperienze ci dicono che molte cose devono cambiare, e noi, diciamo un po' tutti, l'importante è essere convinti del significato della scuola, dell'importanza della scuola, che tu sempre ribadisci nei tuoi incontri che organizzi. Perché è importante la scuola? La scuola perché è propedeutica alla formazione della persona. Oltre alla famiglia, penso che l'agenzia più importante è assolutamente un fatto scontato. Ci sono ragazzi che stanno più a scuola che in famiglia. Esatto, e oggi le famiglie stesse hanno questa necessità di avere molta più collaborazione da parte della scuola, e vorrei che fossero anche le famiglie a dare un loro contributo, piuttosto che utilizzare molto spesso la scuola come parcheggio, come ambito di utilizzo educativo, di aiuto educativo. Ma è importante che i genitori, infatti in questo sicuramente il dottore Maggio, come presidente dell'Associazione Genitore di Ambito Regionale, ha presenza testimoniale a questo discorso. E poi io volevo, al momento opportuno, fare un accenno al disegno di legge che c'è in corso, all'Assemblea, proprio su questo tema. Sul diritto allo studio. Sul diritto allo studio. Perché è importante questo. Perché oggi è importante dare, se è possibile, alcuni dati su questo tema dell'edilizia scolastica, anche perché il proprietario stava dicendo qualche cosa e mi sembra opportuno appunto. No, io volevo dire soltanto un dato tra i tanti, perché questa anagrafe, questa, si chiama Ares, anagrafe regionale edilizia scolastica, che è di competenza della regione siciliana, ma alla cui noi, diciamo, redazione, noi partecipiamo con i nostri tecnici, è uno strumento veramente straordinario. Un dato, diciamo, che emerge all'occhio è l'età della costruzione degli edifici. Noi abbiamo quasi la metà degli edifici che è costruita tra il 46 e il 75. Caro proprietario, ho raccolto tutte le piante originali della costruzione degli immobili. E ce le mandi allora. Quindi è evidente che ci sono edifici che hanno 70 anni di vita. Sono molti costruiti nel 1931, gli altri sono stati nel 1950-51, sono state la maggior parte. Ecco, adesso non se ne costruiscono più per un dato molto semplice, che purtroppo questo è qualcosa, come dire, che rattrista e che interessa anche alla scuola, che c'è un calo demografico evidente e quindi abbiamo sempre meno alunni. Quindi il fabbisogno complessivo di edilizia è diminuito. Ciò comunque non toglie che le scuole che abbiamo, che sono alcune, ripeto, dei dati, stiamo parlando del 45 e 77%, cioè quasi la metà, risalgono al periodo tra il 46 e il 75. Quindi è un'esigenza forte, sicuramente un interesse pubblico forse che sconta delle arretratezze, ma sul quale possiamo dire che si interverrà con opere cantierabili, credo già dalla fine di quest'anno, la prima tranche dei 272 milioni di euro. Quindi sotto questo profilo, noi, io credo che sia, lei dice, quando parla di società civile, credo che prima, una delle prime agenzie della società civile sia la stampa, la televisione, il giornalismo, che ha il compito... No, noi possiamo fare la trasmissione ogni giorno. No, ogni giorno no. Io sono disponibile, quando dite voi, io sono disponibile a verificare, sempre su questi fondi istanziati, noi possiamo verificare, dico, ogni 15 giorni, quando dite voi, ogni mese, diciamo, il percorso che è stato fatto... Magari facciamo venire qualcuno dall'assessore regionale. Prese, c'è una confusione tra il direttore, prese e il dirigente. Certo, l'idea del presidio di un'istituzione scolastica, qualcosa di romantico, che a me piace molto. C'è questa figura di presidio di un'istituzione scolastica e quindi con il garante di... E' un notativo, ecco, però quello prima, diciamo, ha un certo sapore, insomma, come posso dire, non di antico, per carità, di classico, ecco. Richiama più una funzione di dirigente, una funzione più di natura amministrativa. Che cosa possiamo dire? Senta la squadra di Ficarazzi? Allora, io gestisco tre plessi scolastici nel dettaglio, di cui tra l'altro uno, che l'architetto Passaro conosce, perché abbiamo fatto delle azioni, diciamo, per la sicurezza insieme con l'ente locale, di concerto con l'ente locale, come in Ficarazzi, anni fa. E' un edificio, credo, del 1906, se non ricordo male. Però è un bel edificio, anche sotto il profilo architettonico. E per cui, dico, non necessariamente gli edifici che hanno tanti anni, sono degli edifici, comunque, dico, a rischio. Certamente bisogna prendersi cura, come se si prende cura di una persona più anziana, no? Per cui, dico, i controlli devono essere fatti più spesso. E' necessario avere, diciamo, un occhio particolare, ecco, ad alcuni aspetti strutturali. Per cui, dico, si potrebbe certamente pensare di valorizzare questi edifici, che hanno, tra l'altro, una storia. Questo edificio si chiama Francesco Palotesauro, che, tra l'altro, se non sbaglio, è stato, tra l'altro, sindaco di Palermo, Francesco Palotesauro, negli anni 30, se non ricordo male. E quindi una persona, diciamo, come dire, esatto, con una storia. E quindi basterebbe incentivare ancora di più le spese per la manutenzione di questi edifici, anche per renderli fruibili, anziché pensare di chiuderli, oppure destinarli ad altro, diciamo, ad altro scopo diverso da quello scolastico. Ricordo, un intervento che abbiamo fatto era quello di mettere i parapetti, diciamo, con interni, un po' più alti, diciamo, per la sicurezza, perché all'epoca non erano previsti, diciamo, 90 centimetri. Rispondiamo in 10 secondi cosa possiamo rispondere, perché il tempo è volato, è chiaro che è così. Allora, io mi piace ricordare una cosa. In questi ultimi anni, mi pare giusto dirlo, ci si è più occupati del problema che preoccupati. E mi spiego meglio. Siccome continuo a sostenerlo, i flussi di denari volti alle scuole ci sono, ce ne sono tanti, tanti in varie... Il problema è vedere se vengono spesi, questo è il tema. Ma, in questo momento, quello che secondo me è più importante far capire alla gente è che sono tante attività che sono svolte dai vari organi preposti al controllo e da noi stessi come Ufficio Scolastico Regionale, che possono sicuramente dare un segnale di cambiamento rispetto al passato. Non ultimo, per esempio, giusto per dirne una in maniera molto più specifica, attività di monitoraggio che partono da essere Sicilia non ce ne sono mai state. Noi da sei mesi a questa parte abbiamo fatto attività di monitoraggio volte alla sicurezza per quanto riguarda rischi di invasioni, atti terroristici nelle aree di pertinenza alle scuole. monitoraggio riguarda... Siamo fuori... È un argomento che tratteremmo... Devo dire che c'è stata sempre grande collaborazione da parte dei presidi o dirigenti scolastici, che dir si voglia. Danilo, proprio 10 secondi... Io una cosa desidero solo... E questo è l'invito del Repubblico al nostro provveditore. Non è il caso, perché molti dicono che la responsabilità è dell'assessorato regionale, l'assessorato alla pubblica istruzione comunale. Il preside non si assume la responsabilità... No, ma non abbiamo colpa a nessuno. Allora, no, no, ritengo che non sia il caso di creare una cabina di regia dove tutti questi attori si riuniscono e cercano di superare tutte le difficoltà perché molti, purtroppo, presentano e lamentano queste difficoltà. Grazie. Posso dire che soltanto una battuta esiste. Posso dire anche a nome del nostro direttore, dottoressa Altomonte, c'è piena unità di intenti tra noi e l'assessorato regionale. Però, provveditore, se non mi promette voi in maniera decisa, io divento meno fiducioso. Io non voglio fare polemiche, sono qua per portare... C'è la volontà politica. C'è la volontà politica. Io è stato qua l'assessore, quindi lo so benissimo. Però l'assessore ha colpito... Una persona seria. Bisogna aiutarlo, al di là della persona. Bisogna aiutarlo. Comunque, ci ritorneremo sull'argomento. Io vi debbo ringraziare, ringrazio in particolar modo il proveritore, ringrazio tutti, i telespettatori anche, buonasera a tutti. Grazie.